Mattinata di allenamento qui al Partenio Lombardi per i Biancoverdi agli ordini di uno scatenato Michele Pazienza. Il tecnico Biancoverde si fa sentire, si fa sentire come con i suoi ragazzi, predica attenzione ma soprattutto intensità e velocità. Non vuole assolutamente che si abbassi l'asticella, dice gli allenamenti sono come le partite, dovete mantenere l'attenzione al massimo. E bisogna dire che i Biancoverdi lo stanno facendo, stanno seguendo il diktat del tecnico che in una prima fase ha lavorato in palestra, poi ha portato i suoi in campo per un allenamento, una breve parte atletica, gioco con la palla e poi subito questo esercizio in cui la cosa più importante è mantenere il ritmo alto, questo per recuperare anche una forma fisica che fino a questo momento non sembrava assolutamente brillante. A tal proposito però i problemi ci sono e riguardano tendenzialmente tutti l'infermeria. È rientrato Gabriele Gori ed è l'unica buona notizia, Gori era semplicemente in attesa di rinnovare un permesso per l'idoneità sportiva, lo ha fatto in breve tempo. Sgarbi non è ancora rientrato, è fuori per un permesso personale, poi ovviamente ci sono gli infortunati. Ci aspettavamo Fabio Tito questa mattina ma in realtà non è qui e non ha lavorato in gruppo. Jacopo Dall'Olio ne avrà probabilmente per un mesetto, ha un problema muscolare, sogni d'angelo, lo sapete, resterà fermo in box a causa di un problema alla caviglia. Felice D'Amico ha una tonsillite, sta pian piano recuperando ma è sotto cura antibiotica. E poi ancora c'è la questione Raffaele Russo che seppur ancora infortunato dà delle buone sensazioni. Lo abbiamo visto correre, lo abbiamo visto desideroso, non vuole fermarsi, vuole essere al centro dell'attenzione e con buona probabilità per le prossime tre settimane resterà fermo in box, poi proverà quantomeno a ritornare in gruppo con i compagni. Ovviamente c'è anche la questione Falbo che sommata all'infortunio di Tito crea un problema sulla sinistra. Naturalmente Michele Pazienza sta cercando e sperimentando anche San Nipoli da quel lato del campo. Seduta di allenamento che si riproporrà domani nel pomeriggio, poi si procederà sempre a ritmo della seduta singola per poi allenarsi sabato mattina alle 10.30 e partire alla volta di Messina dove Michele Pazienza ovviamente vuole dai suoi la prova del 9.